Buongiorno dottor Zuge, direttore generale di Deutsche Messe Italia. Siamo all'apertura di TPA. Quali sono i punti di forza di questa nuova fiera? Questa fiera è in grado proprio di dare visibilità ai prodotti escorsi in fiera nella loro applicazione innovativa. Quindi viene realizzata anche uno spunto come si potrebbe usare questo tipo di prodotto nel futuro.